Noi siamo già a lavoro con Luca Zaia da tempo, Luca Zaia è un patrimonio per quello che ha fatto e per quello che farà, non mi interessano le beghe interne, quindi io sono a totale disposizione dei Veneti e di Luca Zaia e la scelta sarà fra Zaia e Lamoretti e lascio liberi i Veneti di scegliere fra quello che Zaia ha fatto e quello che l'amica degli estetisti va promettendo che farà. Ma è personalmente dispiaciuto della scelta che sta facendo a Tosi? Io sono sempre dispiaciuto quando c'è un leghista insoddisfatto, siamo tutti adulti e vaccinati, Luca Zaia non si tocca e questa è la parola fine.